E' il capitano, attento! Lancialo contro questo. Ora! Oh, ma dai! Accidenti, pensavo che contenesse acqua. Scusa. Adesso mi girano. Questo faceva parte del piano? Beh, il mio piano era di essere gentili. Cambiamo tattica. Il nostro passaggio. Forza! Capitano Rogers. So che lei crede che quello che sta facendo sia giusto. Ma per il bene comune dovrà arrendersi ora.